La prossima ricetta è perfetta per le feste. Insalata di fagiolini con salsa alla senape. Per la salsa, avvolgete una testa d'aglio in un foglio d'alluminio e infornatelo. Mettete i fagiolini in acqua bollente precedentemente salata. Ancora un po' di sale per il colore e cuocete per un paio di minuti. In questo modo resteranno verdi e croccanti. Scolate i fagiolini e passateli immediatamente sotto l'acqua corrente fredda. Togliete l'aglio dal forno. Tagliate la testa e spremete per far uscire tutta la polpa che in forno è diventata cremosa. Poi unite l'aceto di vino bianco, un fiocco di senape di digione e del miele liquido. Insaporite e versate l'olio d'oliva. Mescolate. Unite i fagiolini e alla fine aggiungete le mandorle in scaglie per avere una consistenza più croccante. Mescolate bene e servite. Il sapore della salsa alla senape viene esaltato dalla polpa d'aglio ed è perfetta per condire i fagiolini. Grazie.